ciao ragazzi come va allora ho elencato i possibili doppiatori delle due e dei due studi di doppiaggio e allora una è mera che film e l'altra è cdc safety group group allora quelli della possibili doppiatori della mera che quelli che sono stati mostrati nel trailer di dragon ball super broli e così che si chiama ufficialmente il primo è gogo che claudio moneta vegeta gianluca iacono bulma emanuela pacotto virus lorenzo scattori o scattori guise alessandro zurla freezer e federico sanandrea broli luca sandri vittorio bestoso paracas e quella della cdc safety group e che ha doppiato i film la patella delle idee e la risoluzione di effe sono gogo andrea ward e vegeta massimo di ambrosis bulma monica ward virus riccardo rossi che non c'è stato davvero male come doppiaggio per guise no per virus e guise roberto che credo che si nomina così freezer loris lotti broli mario bombardieri ma ho sentito la voce di mori bombardieri ci sta per per broli ma per essere un po più non so di vecchia data preferisco luca sandri e infine paragas diego reggente questi sono i possibili doppiatori che sono stati mostrati nel trailer e nel teaser nel trailer e per gli altri personaggi che sono stati mostrati nel trailer ancora non lo so ma si vedrà nella prossima notizia credo ma bene ragazzi io volevo stato elencarvi i nomi dei possibili doppiatori di dragon ball e del film di dragon ball mettete un bel like vi invito a iscrivervi a fanculo vi invito a iscrivervi al mio canale ci vediamo al prossimo video ragazzi a presto ciao lo so c'è le ragioni di sole che mi taglia in due ciao